Siamo in democrazia, tutti hanno diritto di scendere in piazza e tutti hanno diritto di dire in maniera pacifica quali sono le loro convinzioni e quello che stiamo facendo adesso non c'è nessuna alleanza, l'abbiamo ripetuto ormai veramente proprio, non riesco più a dirlo, c'è un'intesa su dei punti che sono punti programmatici di un nuovo governo. Punto. Scusi ma questa però storicamente si è sempre chiamata alleanza di governo? Allora, no, non è così, perché le alleanze di governo sono dei patti chiari che si stabiliscono ben prima delle elezioni e che consentono alle coalizioni di sostenersi nulla o null'altra su un programma di governo che è costruito per accontentare un po' tutti. Questo non è il nostro obiettivo. Gli italiani hanno deciso questo, non c'è altro. Il Sud è fortemente nei nostri programmi, nelle nostre intenzioni e nei nostri sacrifici. Ho parlato neanche mezz'ora fa con Cantalamessa, proprio della Lega, e ci siamo trovati d'accordo sulla necessità di mettere il Sud al centro. La terra dei fuochi non si combatte con un programma, la terra dei fuochi si combatte con delle azioni. In Consiglio regionale la terra dei fuochi non viene combattuta nella maniera giusta perché bisogna lasciare spazio a una serie di interessi che non sono soltanto quelli economici.